Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusiossola sia separato dalla regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Lombardia? Questo è il quesito esatto che gli elettori troveranno sulla scheda referendaria. Perché domenica 21 ottobre 2018 si trarà il referendum consultivo a norma della reticolo 132 secondo comma della Costituzione. Il quesito che sarà sottoposto ai cittadini riguarda il distacco del Verbano Cusiossola dal Piemonte alla Lombardia. Ma noi abbiamo le idee chiare? Quindi cosa facciamo? Votiamo sì o votiamo no? Io voto sì per avere l'autonomia. Io voto no perché il Piemonte è casa mia. Io voto no per non dare la vinta al sì. Io voterò sì perché si possa cambiare. Io voterei no. Però voto sì per non dare la vinta a coloro che voteranno no. Ma guardi io non voto perché tanto poi alla fine non si raggiunge mai il quorum. Io dico di no perché tanto il bonus benzina che me frega. Non ho neanche la macchina. Io voto sì perché ragazzi cioè la provincia di Sondrio è tanta roba. Io voto di sì perché il risotto la milanese è buonissimo. Quello la torinese l'avete mai sentito? Ma io voto no perché tanto sotto la mole di Torino io mangio sempre un giorno io otto. Io voto sì perché ci vogliono Salvini e Maroni. Io dico no perché è colpa di Salvini e anche del reddito di cittadinanza. Ma quale referendum? Io dico sì per la questione del canone idrico. No 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 io dico di no perché di canone abbiamo già quello della Rai. Io voto no perché sul gruppo Whatsapp delle mamme dal titolo Novax hanno deciso di votare di sì. Io voto sì ma dico di sì perché la domenica mattina messa il palloco ha detto di votare sì. Ma che cazzo me ne fotte di votare? Premonte, Lombardia, tanto poi io al mare vado in Calabria. Oh oh io voto di sì ma vado in giro a dire che voto no solo perché fa più figo. Quindi che sia sì, che sia no, andate a votare. O fate un po' il cazzo che ce l'avete voglia insomma non è che è.